Nel business si parla spesso di impresa e l'impresa effettivamente è a metafora della vita. In ogni impresa che si rispetti si parte sempre da un matto, cioè da un visionario che ha un sogno, un obiettivo da raggiungere e deve capire come raggiungerlo. In questo senso la creatività è una qualità fondamentale che confina proprio con la leadership, anzi ne è parte integrante, perché per giungere alla realizzazione di un'impresa e quindi alla conquista di un nuovo territorio, a volte anche interiore, serve fronteggiare tutta una serie di difficoltà e tenere ben salda la rotta, cioè l'obiettivo di valore da seguire e da raggiungere. E per fare questo bisogna saper gestire gli imprevisti esterni, bisogna saper lasciar morire quello che è tempo di rilasciare, bisogna saper guardare le cose da un altro punto di vista e infine bisogna saper contemperare le esigenze e gli obiettivi di tutti per creare una squadra, perché non esiste capitano che possa governare una nave senza equipaggio.